Matteo Soragno Siamo in un punto in cui c'è tanto da lavorare e questo è un aspetto molto positivo perché vuol dire che si può migliorare tanto. Purtroppo abbiamo avuto già un infortunio importante di Nordei che ci mette un po' il vostro entro le ruote per quanto riguarda la crescita della squadra, però è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, che ascoltano l'allenatore e questo è fondamentale. Ti ripeto, c'è tanta storia da fare. Giocatore di esperienza, cosa credi di poter dare soprattutto ai più giovani della tua squadra e cosa invece puoi ancora imparare da loro? Mi hanno potuto aiutare nella loro crescita, come loro possono aiutare bene nella mia crescita in questo campionato e durante la stagione. Sicuramente anch'io ho tante cose da imparare perché non si sente male di farlo, quindi anche semplicemente qualche movimento che qualche giocatore ha, da cui prendere spunto che magari non avevano mai messo sul campo. E poi credo che l'obiettivo di tutti assieme sia quello di stare molto bene assieme e di aiutarsi da un po' l'altro. Serie B, girone A, un campionato che si pronuncia molto difficile con formazioni che si sono attrezzate molto. Sì, lo sapevamo, mi hanno detto, ovviamente io non conosco la maggior parte dei giocatori per una questione proprio di passato. Però sono tanti anni che conosco, io con alcuni ho già giocato conto anche in altre serie. Però insomma la formula di quest'anno è una formula veramente molto complessa. Il campionato potrebbe essere lunghissimo e poche squadre, quindi sarà importante essere molto costanti durante l'anno e essere molto informale e off-front. Tu ti stai costruendo parallelamente quella che potrebbe essere la tua carriera una volta smesso di giocare. Hai iniziato da commentatore a Sky negli ultimi europei. Sì, questa è un'opportunità che mi hanno dato, sono molto molto felice. Vediamo come va, insomma, è un mondo nuovo per me, perché sono un bibelino, probabilmente mi fanno qualche matricola. Però insomma ti ripeto, è un mondo nuovo, è un mondo interessante, mi stimola moltissimo. Spero di essere la altezza. Oggi si scende in campo contro Monsumano, che partita ti aspetti subito all'esordio in casa? Non sarà semplice, come tutti gli esordi, perché ci dobbiamo conoscere e dobbiamo conoscere gli altri. Sarà una partita in cui dovremo avere prendo molta pazienza, non finirà veloci niente, insomma. Questa è una squadra comunque molto intensa, che fa una diffusa particolare. Sono venuti da Andrea, che ha giocato con me, anzi io ho giocato con lui a Biel. Poi c'è Gianni, che ormai è un vecchio gruppo di tutte le categorie. Insomma, non sarà semplice, dobbiamo essere molto molto opocati. Grazie a tutti.